Ciao a tutti ragazzi, vedrai qui in questo nuovissimo video. Oggi siamo qua per vedere dei giocatori giovani ad essersi ritirati. Iniziamo subito. Il primo giocatore ragazzi è Felice Natalino. Questo giocatore ha giocato nell'Inter, nella Smerona e ha giocato anche nel Crotone. Felice Natalino si è ritirato a 21 anni e ora ne ha 27. Aveva potuto tranquillamente continuare a giocare, però ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo all'età di 21 anni, nella stagione 2012-2013, con l'Inter, ovvero il 2013 si è ritirato con l'Inter. Il secondo giocatore di cui vorrei parlarvi ragazzi è Rafa Benitez, che adesso è un allenatore. Però quando era un giocatore si è ritirato all'età di 26 anni. Poteva benissimo giocare per qualche altro annetto, però nella stagione 1986 Rafa Benitez appese gli scarpini al chiodo all'età di 26 anni. Terzo giocatore ragazzi, Wendell Lira, un giocatore brasiliano che si è ritirato all'età di 27 anni nel 2016. Ha giocato in molte, molte, molte squadre, ma a 27 anni poteva ancora giocare per qualche annetto, però ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo nel 2016. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci becchiamo nella prossima puntata, bella raga.